ben ritrovati cari amici di auto occasioni oggi mi trovo dalla regina del risparmio ovviamente parlo di queen car e con me massimiliano ben ritrovato ma tutti ben ritrovati stanno ripartendo gli incentivi statali fino a 13.750 euro per vetture elettriche e anche incentivi di rotta mazione su autovetture usate e allora massimiliano adesso ti seguiamo e andiamo a scoprire le proposte di questo mese 6.000 euro di risparmio sulla lancia y a chilometro zero il canone parte da 139 euro al mese passiamo al marchio abarth dove abbiamo vetture nuove a chilometro zero e aziendali con un super risparmio che arriva fino a 5.000 euro guardate questo bellissimo colore in pronta consegna con un canone da 329 euro al mese passiamo al marchio fiat con la fiat panda motorizzazione ibrida grazie al chilometro zero e incentivi statali lo sconto arriva fino a 6.000 euro può essere vostra con un cannone che parte da 129 euro al mese fino a 5.000 euro di risparmio grazie gli incentivi statali sulla fiat 600 motorizzazione ibrida disponibile anche l'elettrica e il cannone parte da 229 euro al mese 13.750 euro di risparmio con incentivi statali che stanno arrivando sulla 500 elettrica con un cannone che parte da 290 euro al mese cercate anche una ibrida un risparmio che arriva grazie al chilometro zero un risparmio fino a 6.000 euro e il cannone a partire da 199 euro al mese pronta consegna sulla 500 x un risparmio che arriva fino a 6.000 euro e il cannone da 289 euro al mese non mancano le fiat tipo sia la berlina che la cross in pronta consegna sconti fino a 6.000 euro il cannone partono da 199 euro al mese passiamo al marchio jeep dove abbiamo chilometri zero sul jeep renegal 1000 benzina 1600 turbodiesel cannone 299 euro al mese anche compass aziendali chilometri zero sempre anche motorizzazione ibrida il cannone 399 euro al mese 3.800 le opel mocca le citron c3 aircross e questa q3 bellissima full option a volkswagen t rock 5.800 un 7 posti se cercate sempre aziendale cannone da 399 euro al mese volkswagen t cross con un cannone da 199 euro al mese vi ricordo il risparmio su tutte le vetture aziendali arriva fino a 6.000 euro e allora cosa state aspettando per cambiare la vostra prossima auto non solo scontistiche importanti ma anche incentivi statali sì fino a 13.750 euro di risparmio sulle vetture elettriche mille autovetture in pronta consegna chilometro zero nuove vetture aziendali cosa aspettate venite qui alla queen car in via poerino numero 6 sempre a carmagnola grazie massimiliano e un grazie a tutti voi vi aspetto alla prossima puntata